Hola Automaticers e futuri Automaticers, come state? Allora, video di oggi di quelli belli, succulenti e pratici, perché di che cosa parleremo? Parleremo di web journalism e digital PR, paroloni per dire una cosa facile. A te ti piace andare sulla carta stampata, in radio, in televisione e far girare l'anmarco della tua azienda, il tuo brand in giro per l'internet e non solo, bene, questo è il video giusto che fa per te. Prima di iniziare, ne parlerò con un ospite di quelli spettacolari, prima di iniziare, mi permetti di darti il benvenuto in Automaticing e di presentarmi. Io mi chiamo Stefano e il mio lavoro e la mia passione è quello di aiutarti a vendere di più, senza stress, grazie a quella che definiamo essere l'automazione di business. se non l'hai ancora fatto, e ti faccio vedere anche la grafichetta, ti invito ad iscriverti a questo canale, attivando la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicheremo un video, un tutorial, una strategia, un'automazione, o una figata come quella di oggi, per aiutarti ad essere anche te, appunto, un'automatica, ovvero questo professionista che ha un equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, perché, come diciamo sempre, qui nessuno è davvero amico mio, amica mia, nessuno ci tiene ad essere il più ricco del cimitero. Allora, vengo subito a te, perché nella scaletta, vedo dietro le quinte, Alessandra Scalpita, ti voglio presentare la mia amica di oggi, Alessandra Hortensi, benvenuta, come stai? Grazie Stefano, bene, bene, tutto bene, sono molto contenta di essere qui con voi, anche perché mi sembra un ambiente molto, molto frizzante, abbiamo bisogno anche di cose con le bollicine in questi giorni, dato che fa caldo, no? Diciamo così, mettiamola sul corpo di vista. Bene, io mi occupo di Digital PR, appunto, sono un'autrice sia di testi long form, chiamiamo così, quindi sia di libri, anzi approfitto, questo è l'ultimo libro che ho scritto con Federica De Stefani, appunto su un pezzo... Fallo vedere bene, fallo vedere bene, così si vede. Eccolo qua. Su uno dei temi, o meglio, il tema dal quale partiremo per, diciamo, intavolare la nostra chiacchierata. Assolutamente. A parte tutte le altre cose che faccio, soprattutto nello sport, mi occupo di strategie digitali e dell'ufficio stampa di una società che si occupa di prodotti tecnologici per tre settori fondamentali, che è sport, retail e finance. Quindi, diciamo, ci rivolgiamo a un pubblico abbastanza ampio di aziende. Adesso, qual è il mestiere poi che faccio io? Io mi occupo, per esempio, di impostare una strategia particolare di comunicazione, ma non la comunicazione globale, diciamo, ma una comunicazione orientata più al contatto con i media. Quindi, il classico ufficio stampa, o quantomeno riuscire a, appunto, posizionare l'azienda attraverso i vari media convenzionali oppure digitali. Bellissimo. E guarda, proprio mi hai servito sull'assist d'argento, perché i nostri amici Automatiker sanno che c'è una scaletta in tre punti. Te la vado a descrivere così capiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. Ti chiederò, fra 30 secondi al massimo, che cos'è il web journalism, che cosa si intende, e soprattutto, nel secondo punto, come ci può aiutare a fare, a noi imprenditori, a noi professionisti, come ci può aiutare a fare delle digital PR, ovvero, come ci siamo detti prima, delle relazioni con carta stampata, carta digitale, radio, televisione, e tu ci racconterai come. E soprattutto anche il cosa. E soprattutto, l'ultimo pezzo, alla fine, come sempre, ci racconterai quelli che sono gli strumenti, quelli che sono i top, cioè quelli di una professionista che fa questo di lavoro, che noi imprenditori, imprenditrici, professionisti, e via dicendo, possiamo utilizzare per, un pochettino, fare un pezzettino del tuo lavoro. Partiamo dall'inizio. Cosa si intende per web journalism? Allora, intanto, l'evoluzione del giornalismo oggi è sotto gli occhi di tutti, probabilmente ancora resiste una parte del giornalismo tradizionale, soprattutto dal punto di vista dell'etica, ma esistono, così come ha espresso Antonio Dini, che è un giornalista di vecchia data, nella prefazione del mio libro, nel mio libro, una serie di giornalismi. Quindi non parliamo più di giornalismo, ma di giornalismi. Giornalismi perché? Perché poi il giornalismo ha preso delle pieghe abbastanza particolari con l'evoluzione tecnologica. Quindi abbiamo un'evoluzione propria del giornalismo da tradizionale a giornalismo digitale, e poi una declinazione di questo giornalismo digitale stesso attraverso le piattaforme, anche le stesse piattaforme social. Tant'è vero che abbiamo anche delle espressioni di giornalismo declinate attraverso Instagram, cioè ci sono delle tecniche di giornalismo che vengono proposte attraverso Instagram. Naturalmente, in cosa si differisce con fare blogging o comunque creare dei contenuti, quindi essere un comunicatore senza essere un giornalista? Che si ha una particolare attenzione verso l'eticità della notizia, verso il lettore stesso, no? E questo poi è un tema che noi ritroviamo moltissimo, che abbiamo ereditato dal lockdown e quindi da questa pandemia, il fatto del cambiamento dei linguaggi, di come i linguaggi si sono modificati, andando quindi a perdere tutta quanta una parte, una grossa fetta di only business, quindi rivolta soltanto a fare business, ma cambiati nel senso che c'è una maggiore attenzione invece ai bisogni e alle esigenze degli utenti, che possono essere naturalmente anche i clienti di un'azienda. Per questo si media dal giornalismo una tecnica che comunque permette all'azienda di coinvolgere l'utente che è sensibilmente cambiato, perché è oppresso anche dal pensiero della pandemia, di tutte le preoccupazioni che si tira dietro e quindi non risponde più alle classiche campagne, magari pubblicitarie, chiamiamole così. Quindi dal giornalismo si media un po' questo metodo di linguaggio. Diciamo che se posso provare a riassumere dal punto di vista, diciamo, di un imprenditore, di un'imprenditrice, di una professionista, fare questo tipo di attività, adesso entraremo proprio nella parte di come ci puoi aiutare a fare, quindi che consigli ci puoi dare per fare digital PR, diciamo, vedi se ti piace come riassunto, è sia la produzione di notizie, ma anche e soprattutto l'ambiente un pochettino più etico, sociale, sociologico della notizia, perché devi comprendere il profilo del tuo lettore o potenziale tale e cercare di contestualizzare la tua notizia dentro questo ecosistema che è un po' più complesso rispetto a butto fuori un articolo del post, del blog e ciao, ok? Esatto, sì, sì, sì. La domanda è come, cosa ci consigli? Diciamo, io ho un'impresa, in questo caso io ho un'accademia di formazione, anzi, aperto e chiuso a parentesi, sia ancora amico o amica automatiker, che ci stai guardando, non lo sai, dai un occhio ad academy.automaticin.com perché abbiamo dei corsi lì belli, succurenti, pratici, che ti aiutano a automatizzare il tuo business. Ecco, diciamo che questo è il mio business e voglio fare delle digital PR, quindi voglio spargere un pochettino la voce. Da dove mi consigli di partire per fare digital PR? Allora, innanzitutto, il mestiere di chi fa ufficio stampa e digital PR è un mestiere che attinge la sua linfa, diciamo, dalle relazioni vere e proprie, quindi è un mestiere anch'esso che ha subito la trasformazione attraverso gli strumenti tecnologici e quindi l'evoluzione, il passaggio al digitale, quindi la trasformazione piena della nostra vita in cui non c'è più una separazione tra la vita reale e quella digitale, quindi questo mestiere è fatto di relazioni. Di conseguenza, la cura delle relazioni è sicuramente il primo punto a cui bisogna prestare la maggiore attenzione. Questo vuol dire sia le relazioni che si riescono a portare avanti nel tempo, quindi le relazioni che si sono chiuse o si sono strette nel tempo, anche pre-digital per chi ha un'età un pochino più avanzata come me, sia relazioni che invece si sono create proprio nel mondo digitale. C'è sicuramente una grandissima attenzione al community management, quindi questo vuol dire che quando si ha un'attività nei vari canali social è importante cercare di approfondire anche sia le persone che interagiscono con i propri contenuti, ma sia colleghi o comunque stakeholder che possono comunque entrare a far parte della nostra cerchia di relazioni. È importante quindi... solo per dirti che da poco abbiamo pubblicato, sempre lascio il link in descrizione, proprio una masterclass dove parlavamo con, diciamo, in dettaglio di come creare community di successo, c'era la community manager di Montemagno, la community manager di Carpe Sky, c'è un'euro in neuroscienza, un'euro marketing, quindi ne abbiamo parlato proprio in dettaglio, approfitto per lasciare il link in descrizione. Quindi si basa sulla relazione umana e sulla conoscenza del settore e su cos'altro. È sulle relazioni digitali, naturalmente, quindi la capacità di utilizzare un linguaggio, perché, attenzione, non basta interagire in maniera, diciamo, asettica, e qui ci torna utile il mestiere di giornalista, cioè riuscire a comprendere come utilizzare quel linguaggio e moderare l'espressione e l'espressività sia nei commenti che nelle proposte dei contenuti, perché, come diceva un autore di un libro sul quale ho, insomma, speso la mia formazione, le parole sono importanti. Quindi è importante riuscire a comprendere le persone con le quali noi interagiamo, perché per ogni persona c'è un tipo di linguaggio diverso anche per dire la stessa cosa. Quindi l'esercizio della parola e l'esercizio della comunicazione è importante in questo mestiere. Di conseguenza, questo vuol dire che quando entro in contatto con un giornalista perché devo proporre o devo inviare un comunicato stampa della mia azienda, utilizzerò un determinato linguaggio, quando entro in contatto magari con un'altra persona con il quale posso organizzare un evento o comunque posso organizzare un'attività per la mia azienda, utilizzerò un linguaggio diverso, proprio perché tutto dipende dalla tipologia della persona con la quale noi entriamo in contatto. Ti faccio un paio di domande proprio basic, nel senso, ora mi rendo conto che per fare un lavoro, allora non sarebbe un lavoro se fosse facile, cioè se basta prendere una mail, mandarla a tutti i giornali, le riviste, i contatti, se fosse così mi rendo conto che sarebbe a parte un bagno di sangue perfetti, ma poi non ci sarebbe persone che fanno questo di mestiere e rendono anche sostenibile, perché noi, scusami la parentesi Alessandra, parlo a te che ci stai guardando, non è solo importante uscire sulla notizia, ma anche cercare di capire come eventualmente fare la notizia, perché non è pubblicità, ok? È giornalismo, sono notizie, sono, diciamo, quella è la vecchia carta stampata, non è la pubblicità, è una comunicazione di un altro livello, ecco perché ti serve da imprenditore, da imprenditrice, un occhio esterno che ti dica questa cosa qui, visto che ho l'esperienza, conosco il mondo, girala in quest'altro modo e comunicala così, quindi, aperta questa parentesi che mi permetto di fare, ti faccio due o tre domande sciocchine, del tipo, visto che noi come imprenditrici, come imprenditori, non partiamo da questo background, come possiamo cominciare a costruire per la nostra azienda, in autonomia, senza contattare necessariamente una persona esterna, ma come possiamo fare proprio i primi passettini nel mondo delle digital PR, quindi, magari come possiamo metterci in contatto con le comunità. Puoi ci fare alla comunità dei gruppi, delle community, questa è una cosa importante. Ok. Tu prima hai parlato di community, quindi entrare nelle community, e anche osservare, studiare, cercare di comprendere chi può essere il mio stakeholder, chi può essere la persona interessata alla mia azienda. Ok. Quindi, selezionando i gruppi in base agli interessi degli utenti e cercando di, mi immagino, prendere una posizione, diciamo, all'interno di questa realtà, di questo gruppo, in maniera... partecipare agli eventi, lì dove è possibile, in presenza, lì dove non è possibile, purtroppo da remoto, in questo momento, quindi oggi noi abbiamo anche quest'altra difficoltà, fare tesoro di ogni incontro che facciamo, e per questo, poi dopo, siccome non esiste più il taccuino, no? Il giornalista prima aveva il taccuino con su scritto, non ne so, l'informatore o comunque la persona da contattare per avere quella determinata notizia. Ecco, cercate di traslare questo nella gestione dell'attività delle digital PR di un'azienda. Io ho un taccuino digitale, poi adesso che affronteremo magari tre strumenti top, cercherò di indicarvi anche quale può essere il vostro taccuino digitale, nel quale immagazzinate i dettagli delle persone che incontrate con i riferimenti utili e il perché l'avete incontrato, oppure quando vi viene in mente ok, potrei scrivere una nota a margine in cui prendete nota, appunto, scusate la ridondanza, prendete nota di quale potrebbe essere la sua utilità in un processo aziendale. Quindi è un lavoro abbastanza, cioè va abbastanza in profondità rispetto a tutte le conoscenze che poi si stringono attraverso il proprio percorso. Mi piace, mi piace, mi piace. Diciamo, è un lavoro di, se ci devi iniziare, non prendi già una persona che abbia già queste relazioni, che ti può dare il turbo, che è un altro valore aggiunto di un professionista, di una professionista, che sa come farlo, sa come aiutarti a montare la notizia, a costruirla in maniera valida, solida, funzionante, etica, c'è anche il discorso che è più rapido perché c'è già le relazioni. Questo mi sembra impagabile. L'altra parte è, diciamo che, io come imprenditore, imprenditrice, comincio a tessere questa, questo network. Mi consigli di farlo tramite, personalmente, quindi io come imprenditore, come titolare di impresa oppure di magari formare o, insomma, affiancarmi con un membro del mio team a livello di costruzione. Dipende dall'ampiezza, scusami Stefano, dipende dall'ampiezza dell'azienda. Allora, io credo molto nella personalità dell'azienda, quindi credo molto che la persona che rappresenti l'azienda è poi quella che resta impressa e stringe i maggiori accordi di PR con le altre persone. Poi, naturalmente, mano a mano che l'azienda cresce, i contatti personali dell'owner dell'azienda hanno un grande valore, ma possono aggiungersi poi i contatti di un subalterno di cui, naturalmente, l'owner si fida che può rafforzare ancora di più e espandere la crescita aziendale. Quindi, sono tutti dei piccoli passelli. Comunque, è un lavoro quasi artigianale. Quindi, l'esempio che tu facevi della mailing list e quindi poi della mail sparata a migliaia di contatti è un po' come la pesca strasci o comunque la pesca senza l'esca precisa. quindi vediamo cosa raccoglio su. Poi non è detto che si raccoglie qualcosa perché è più un lavoro certosino. Tanto è vero che una delle cose che consiglio soprattutto ai ragazzi quando facciamo lezione, mi occupo anche di formazione nei master in comunicazione e marketing, è quello di andare a verticalizzare sempre molto le liste. Quindi creare tante mini liste meglio piccole nella propria diciamo poi vedremo l'altro strumento nel quale costruire queste liste sempre più piccoline che poi magari possono essere alcune utilizzate insieme invece altre utilizzate da sole perché quella notizia che io vado o quella comunicazione che io vado a fare deve essere indirizzata soltanto a quei anche dieci persone che si occupavano però in maniera verticale di quelle vi faccio l'esempio ci siamo occupati con la mia azienda di un evento che era già localizzato in un posto la lista che avevamo creato era una lista di giornalisti e di media locali di quel posto cioè è inutile che io mando un comunicato a Belluno quando l'evento si fa a Catania Belluno è improbabile che la gazzetta di Belluno potrà pubblicare un comunicato di questo una notizia di questo tipo a meno che non ci sia nello staff o comunque non intervenga all'interno dell'evento o di quello che sto comunicando una personalità di Belluno cioè bisogna anche cercare di comprendere quindi fare strategia anche nella comunicazione e questo è molto importante soprattutto per noi imprenditori imprenditrici che ecco cerchiamo di testare in questo caso una relazione proprietaria con un network proprietario per quello che è il nostro business ma potrebbe essere anche per quello di un co-branding di un co-business insomma di un servizio che facciamo con i nostri partner di impresa poi magari di questo ne parliamo in un altro video adesso visto che hai citato gli strumenti prima di entrare ti faccio un'ultima domanda sempre di quelle basiche va bene quanto è utile o comunque include questo tipo di lavoro il mondo degli influencer micro-influencers nano-influencers cioè nel senso per digital PR si intende anche relazione non solo con carta stampata media digitali radio televisione quello che possano essere diciamo il mondo classico del giornalismo ma intende anche quello degli influencer oppure è un lavoro a parte allora come saprete gli influencer non hanno più questo nome ma ultimamente si chiamano creator proprio perché sono in grado di creare dei contenuti e anche perché secondo me il termine influencer si è un po' diciamo inflazionato anche nel suo significato sicuramente è un lavoro completamente diverso rispetto a chi fa strategie di ufficio stampo chi fa strategie di comunicazione però loro hanno una grande forza che è quella dell'amplificazione quasi esclusivamente digitale di un marchio vi faccio un esempio banale basic come la domanda che mi hai fatto un amico oggi mi ha fatto vedere le foto della figlia che si è fatta con dei tiktoker che nella vita reale non sono nessuno quindi nel mondo reale non sono nessuno però sono dei tiktoker quindi nella vita nella vita digitale hanno un'amplificazione importante quindi è un mondo a parte che vive di sue regole sul quale io mi mi esprimo sempre con dubbio rispetto al ritorno al ROI ritorno all'investimento quanto devo pagare e quanto sono sicura che il mio prodotto possa vendere con gli influencer o con i creator chiamiamoli così quindi questo non lo so però il lavoro invece della digital PR è un lavoro diverso perché non è un lavoro basato su esposizione di una notizia o esposizione del brand e poi il ritorno dell'investimento nella vendita del prodotto il lavoro delle digital PR è un lavoro di branding quindi di brand reputation chiamiamo così quindi è un lavoro di relazione è un lavoro molto per questo io credo che la prima persona è l'owner dell'azienda a dover portare avanti quindi non affidarsi alla voce di terzi che poi potrebbero anche non avere una reputazione in quel campo quindi è importante scindere le tue cose anche se talvolta possono essere aggiunte a delle diciamo delle attività che le pubbliche relazioni comprendono quindi delle attività che possono essere degli eventi che possono essere rafforzati dai creator ovviamente quindi c'è una correlazione ma sono due lavori completamente diversi mi piace mi piace mi piace mi piace ora entriamo nella parte degli strumenti mostro il mio schermo perché abbiamo parlato di tacchino tacchino quello che fa più più no tacchino digitale quale strumento ci consigli? ragazzi non tutti lo utilizzano ma la G Suite o Workspace è sicuramente lo strumento a portata di tutti gratuito tra le altre cose che ci consente di lavorare da qualsiasi touch point quindi che può essere il nostro portatile il nostro computer fisso il nostro telefono lo smartphone no? oppure il tablet accedendo soltanto con il nostro indirizzo Gmail e avendo a disposizione tre strumenti eccezionali che sono appunto lo strumento documenti lo strumento fogli e una sorta di powerpoint quindi sono i tre parliamo degli strumenti principi della suite di Windows mutuati però in un ambiente portatile quindi immaginate che potete lavorare da qualsiasi touch point che vi ho elencato tutto il vostro materiale è disponibile ovunque voi anche se non è un vostro computer ovunque voi vi loghiate e non solo avete a disposizione anche uno spazio che è più o meno ampio quindi il drive dove poter salvare contenuti a seconda che utilizzate un abbonamento oppure la versione free e comunque la versione free e poi ci sono tantissime altre tantissimi altri piccoli strumenti o tool per esempio noi nel nostro ultimo libro con Federica abbiamo un pochino elencato quelli che possono essere gli strumenti utili proprio per il giornalista e guardate che il lavoro del giornalista è un lavoro molto simile a quello del giornalista brandizzato quindi del responsabile di un ufficio stampo o comunque del responsabile della voce dell'azienda nei confronti dei clienti o comunque di tutti gli altri stakeholder quindi sicuramente il taccuino quale sarebbe esempio io posso creare un documento scusate un file in fogli e quindi cercare di organizzare in quello strumento in quel documento tutte quante le mie i miei aggiornamenti rispetto alle liste la facilità è che i campi delle mail possono essere poi importati in un altro strumento che esportati in un altro strumento che veremo dopo questo lo vediamo fra un secondo io volevo solo aggiungere la possibilità carina interessante anche di utilizzare quest'altro strumento sempre incluso dentro la suite gratuita che è quello dei moduli ovvero dei sondaggi crei un modulo in che le persone possono riempire anche per magari chiedere un sondaggio per avere informazioni questo non solo da utilizzare magari nell'attività di digital PR ma da utilizzare in generale per avere un feedback sul tuo business che è comunque qualcosa di interessante andiamo nella seconda nella secondo nel secondo strumento perché Alessandra ci ha parlato di liste cioè liste anche email qual è il secondo strumento e perché ce lo consigli dentro di questa strategia mailchimp è nella cassetta degli attrezzi dell'ufficio stampa sicuramente ci sono tante alternative però la versione mailchimp a pagamento naturalmente anche se la versione free ci consente di creare un'unica lista purtroppo mi sembra di massimo 2000 nominativi la versione a pagamento invece ci consente di utilizzare quindi creare tantissime micro liste mailchimp perché perché intanto ha automazioni interessanti sia per la creazione dei template delle mail che possiamo inviare sia perché può essere integrato ad esempio all'interno del back end del sito aziendale se è costruito con WordPress e questa è una cosa fantastica perché poi oggi ci consente anche con degli add-on quindi con dei plug-in aggiuntivi di andare a creare dei form quindi è uno strumento sicuramente versatile molto orientato per il business e quindi orientato per esempio l'ending page su prodotti tutte le landing page per esempio poi sono collegate a liste alle quali noi poi possiamo andare poi a proporre naturalmente le notizie o gli aggiornamenti rispetto all'azienda quindi è un uno strumento di grande versatilità e di importanza focale per la crescita aziendale almeno al livello del lavoro che mi interessa guarda ti faccio vedere tanto che è uno strumento importante questo signore qui ci ha fatto un tutorial il tutorial italiano sulla parte basica sulle automazioni su quello che si può fare ovviamente il link ci mancherebbe altro te lo lascio in descrizione un bellissimo tutorial tantissimi commenti ti va magari se ti va di guardarlo dagli un occhio lasciami un commento e magari dimmi che cosa ne pensi vediamo togliamo questo faccione di mezzo e guardiamo l'ultimo strumento che ci consiglia Alessandra Alessandra cosa fa e a che cosa serve soprattutto vi do l'ultimo consiglio allora intanto parliamo di brand mention allora brand mention è uno strumento che vi serve in due tempi distinti del lavoro diciamo delle digital PR e dell'ufficio stampa e cioè all'inizio cioè prima che noi partiamo con una campagna o comunque con una comunicazione con un evento quello che sia andiamo a fare un monitoraggio perché il momento dell'ascolto è un momento quindi dello studio delle conversazioni che ci sono online rispetto a un tema è un momento molto importante perché il momento che ci restituisce ecco in questo per esempio adesso scorre il sentiment il sentiment per esempio riguardo a un argomento perché i social media sono cambiati in maniera sensibile rispetto anche ai pulsanti di interazione prima noi avevamo soltanto il like oggi abbiamo il cuore oppure la faccina arrabbiata ecco tutte queste cose questi sono dei dettagli che fanno parte della rilevazione del sentiment rispetto a un argomento perché non basta che lo strumento possa quindi che il post possa ingaggiare ma è importante comprendere in che modo se in maniera positiva o negativa e Brain Mention ci consente di fare questo monitoraggio un monitoraggio sia preventivo sia un monitoraggio naturalmente successivo al lancio magari della nostra campagna costruita con MailChimp per comprendere se c'è qualcuno che ha pubblicato la nostra notizia oppure cosa dicono di quello che è stato pubblicato online e questo può essere Brain Mention fa un monitoraggio sia nei blog che nei siti che nelle newsroom che nei vari social media quindi ed è uno strumento sicuramente anche questo a pagamento ma state attenti perché ogni tanto c'è qualche promozione qualche promo importante ma come sappiamo neanche i social neanche Facebook è gratuito d'altronde strumenti aziendali di questo tipo hanno un costo che comunque può cambiare proprio le sorti diciamo di crescita dell'azienda stessa assolutamente poi diciamo è ripagato dall'utilizzo che se ne si fa e dei risultati che si ottengono perché d'altronde se vuoi ottenere dei risultati e magari lo strumento ti può aiutare non vedo perché fare le cose in maniera più lente in maniera più complicata soprattutto se come imprenditore imprenditrici o libri professionisti non abbiamo già tutto quel network tutte quelle relazioni tutte quelle informazioni cioè c'è uno strumento che ci può aiutare dobbiamo investire qualche spicciolo lo facciamo io direi col sorriso sulle labbra a maggior ragione se magari lo monitoriamo e come diceva Alessandra riusciamo a cogliere qualche offerta particolare ma anche perché con Brand Mansion noi sappiamo anche chi dice cosa e questo vuol dire che riusciamo a entrare in contatto magari con quella persona che ha detto una cosa positiva sulla nostra azienda e quindi riusciamo a individuare intanto il social e il profilo e contattarlo poi o in direct o comunque nei commenti per riuscire a stringere una relazione quindi questo fa parte anche della costruzione di PR digitali bellissimo 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 allora io invito ai nostri amici che ci guardano da casa a lasciarci un bel commento a darci un feedback se hai delle domande per me per Alessandra lasciacelo in un commento perché il modo in cui ci aiuti a un pochettino misurare a capire se questo tipo di commento scusami di informazioni ti può essere utili nella tua impresa e soprattutto ci aiuti a monitorare il tasso di interesse sul nostro canale di questi argomenti Alessandra io davvero ti ringrazio perché è un mondo mi rendo conto abbastanza complesso e completo quello delle digital PR del web giornalismo in generale e mi piace molto la semplicità dell'approccio che tu ci hai comunicato oggi quindi davvero 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 grazie contentissima che ti sia piaciuta questa cosa spero che sia insomma che abbia interessato anche chi ascolterà o chi guarderà questo video insomma e spero interagirà no? comincerà a fare delle digital PR proprio sotto questo video guarda io qui sotto ti invito a mettere 10.000 mi piace per Alessandra che così le dimostriamo che l'argomento le è piaciuto di nuovo di nuovo di nuovo grazie Alessandra come saluto sempre i miei amici automatiche gli do un abbraccio forte dalle canale e gli auguro sempre buone automazioni un abbraccio forte ciao ciao Stefano ciao a tutti grazie